Si chiude il 2017 per la Ritmica Dinamo, società sportiva di ginnastica ritmica che ha sede ad Oste in Corso Duca di Genova. Un anno importante per Darina Iaric, la mente di una squadra che supera le 90 unità, bambine che hanno voglia di crescere. Abbiamo ricominciato quest'anno sportivo con notevoli aumenti. Quest'anno abbiamo aumentato il numero delle ginnaste della nostra società, sono tutte principianti a parte le bambine che stanno continuando il loro percorso dell'anno scorso e si è creato anche un piccolo gruppo di pregonismo. In un territorio dove la Ritmica sta pian piano prendendo forma, gli obiettivi sono rivolti verso l'alto. Si, sta diventando più popolare questo sport perché prima non si sapeva un granché, adesso ricevo anche diverse chiamate, anche già per anno successivo, delle bambine che stanno crescendo che vorrebbero cominciare a provare ginnastica ritmica. Una stagione che si chiude davanti agli occhi di chi ha avuto fiducia in questa scuola. Diciamo che questa di oggi è una lezione aperta rivolta ai genitori per far sì che loro vedano che il tipo di lavoro noi svolgiamo in palestra ogni giorno e faremo anche delle piccole esibizioni che abbiamo preparato da settembre fino ad ora. E le bambine, protagonisti di questo saggio, cosa ci hanno detto? Fai ginnastica ritmica? Sì. Ti piace? Sì. Cosa ti piace di più fare quando fai ginnastica? Spaccate. Sei brava a fare le spaccate? Sì, le ruote. A te cosa piace fare di più? Il ponte all'impiedi. Sei brava a farlo? Sì. Cade il ponte all'impiedi. Elegante, mi piace questo sport. Molto. Mi piace di più la ginnastica ritmica, gli attrezzi perché sono molto belli e mi piace farli. Diventerai brava? Sì. Staremo a vedere. Grazie. 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 Grazie.